Io sto molto bene, la squadra credo anche perché anche se abbiamo perso una partita contro una squadra importante come l'Ellas, la squadra ha già digerito il tutto, sta lavorando bene, sta accumulando le forze per Livorno. Ho vissuto questo mio primo derby in Italia direi molto bene, sono rimasto molto contento soprattutto per la cornice di pubblico che c'era perché comunque sia nel mondo di oggi si fa fatica magari a riempire gli stadi e una compagine come Chievo e come l'Ellas hanno reso onore alla parola derby. È stata una bella partita credo sia da tutti i punti di vista e peccato per il risultato. Sì, in Spagna ho avuto la fortuna di giocare il derby contro il Betis, sfortunatamente perso all'andata e pareggiato a ritorno, ma sì, anche lì in Spagna il derby di Siviglia è un derby molto sentito, quindi la gente ci tiene, viene allo stadio, dal punto di vista tattico e tecnico credo che si assomiglino molto a una partita molto tesa dove tutte le due squadre vorrebbero vincere. La partita di Livorno sicuramente sarà una partita molto difficile da affrontare sia in chiave mentale che in chiave tattica. Il Livorno adesso è molto motivato, ha fatto un buon risultato in casa con l'Inter e poi ha perso a Torino con la Juve ma si sa che con la Juve è una partita totalmente a sé e quindi saranno molto motivati e molto attenti a tutto. Ho visto che anche il mister Di Carlo ha fatto un ampio turnover per affrontare questa partita al meglio delle loro possibilità e noi allo stesso stiamo lavorando benissimo, stiamo lavorando tanto e stiamo pronti per affrontare questa partita. Beh sicuramente il fatto che abbiamo due punti in più rispetto a loro, quindi sicuramente se c'è una delle due squadre che dovrà guardare l'altra sono loro. Poi, ripeto, le parti iniziano a 0-0, quindi sarà sicuramente una bella partita che si giocherà sul filo di un rasoio. Ma le situazioni da calcio da fermo, sì, le proviamo spesso in allenamento, poi che sia io che sia qualcun altro a batterle, quella non fa molta differenza. Siamo stati bravi a sfruttarle nelle ultime giornate e hanno portato anche diversi gol, quindi sicuramente vuol dire che le stiamo lavorando bene. No, beh, diciamo che chiunque faccia gol sono ben felice, sarei contentissimo se facessero gol tutti gli attaccanti e tutti i centrocampisti, quindi l'importante è far gol. Quest'anno speriamo che nelle ultime sei partite riesca a fare qualche gol, così siamo tutti più contenti.